Noi siamo quelli delle illusioni, prese al volo come piccioni, noi siamo quelli che, vedete qui, abbiamo frequentato dei pericolosissimi limiti. Noi siamo ritornati senza esami con qualche piccola, insomma, confusione. Beh, la prossima settimana della campanituta, dai, adesso mi canto la campanita. Mi piace molto molto, mi piace nessuno.